Era ricoverata da quasi tre settimane nel reparto di malattie infettive dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. In tutto questo tempo sua madre, malata anche lei, non ha mai smesso di starle accanto e di sperare, sino a quando non è arrivata dai medici la notizia più bella. Il virus è stato sconfitto. È tornata a casa completamente guarita alla bambina di due mesi e risultata positiva al Covid-19. Era stata portata presso la struttura sanitaria barese in compagnia della mamma affetta da coronavirus. Madre e figlia sono state curate insieme grazie alla collaborazione e al coordinamento anche dei sanitari del policlinico. Anche quando la donna ha sviluppato la polmonite, i medici si sono consultati e l'hanno curata senza mai separarla dalla bambina. E sono stati proprio loro a dare la bellissima notizia. Il dopo controllo del tampone per la piccola e la sua mamma ha confermato la scomparsa della malattia. Una storia di speranza che riempie il cuore in un momento drammatico come questo. Un'enorme gioia condivisa innanzitutto dalla madre della piccola che prima di fare ritorno a casa ha affidato le sue emozioni ad un toccante video messaggio pubblicato anche sul canale Instagram del policlinico. È stata abbastanza dura perché comunque la situazione non è stata semplice. Ho avuto febbre, tosse e forse natalente ho avuto solo febbre. Siamo stati veramente bene qua, ci hanno curato, sono stati molto gentili. Rilanciare magari un messaggio a tutti coloro che non vedono l'onore di uscire di casa. Torneranno i tempi in cui ci abbracchiamo e per il momento restate a casa, ci vedremo.